Da un punto di vista urbanistico ci siamo dati lo strumento di poter aprire al mondo privato, quindi noi siamo disponibili a sederci attorno al tavolo insieme a Fondazione Cassamarca come peraltro abbiamo già fatto nei mesi scorsi perché quella che è un'area che io continuo a ritenere strategica, importante e dalle grandi prospettive, se aperta al mondo del privato può essere davvero molto attrattiva, penso a una struttura ricettiva. Opzione che alle minoranze non piace, vendere ai privati potrebbe causare un effetto buco nero per la città di Treviso. Non vorrei essere troppo negativa che lì sarà l'ennesimo buco nero e poi recuperare quell'area a meno che come diceva tempo fa il presidente di Fondazione non sia già appetibile per un fondo straniero ma a quel punto diventerebbe l'ennesimo ingerenza straniera nella nostra città e che vada a privati ma non so onestamente cosa ne potrebbero fare. Privatizzare l'area a piani potrebbe significare anche mettere in crisi le attività commerciali della zona, nate proprio per offrire servizi alle persone che ogni giorno lavorano o transitano per gli uffici pubblici. Evitare che accada, al contrario, quello che è accaduto quando la cittadella delle istituzioni è nata, cioè lo svuotamento di servizi del centro e il conseguente indebolimento del tessuto economico, in particolare quello commerciale, dello stesso centro. Secondo le minoranze, quella del campus universitario e la nuova sede della provincia, le sole destinazioni possibili. Io lo dico da anni, valutiamo seriamente l'opportunità di trasferire lì la sede della provincia che all'ex manicomio è assolutamente inadeguata, nel senso che è eccessiva e che lì potrebbe trovare una sistemazione molto più adeguata. Sarà l'ennesimo buco nero, perché tra l'altro è costosissimo, per cui andate via delle istituzioni che possono pagare, non credo che altri andrebbero. Mi risulta anche che ci siano molti appartamenti ancora vuoti e quindi o si dà una visione pubblica o altrimenti non vedo soluzione. Per me l'università o la provincia potrebbero essere le due posizioni che peraltro il Partito Democratico ha sempre avuto.